Lampeggianti accesi, secondo tentativo per questa settima corsa, come detto in precedenza una categoria CD, ovviamente gli anziani alla via, 9 partecipanti, autostart che rincomincia a prendere velocità, sempre un po' riottoso back on top che deve andare a prendere l'autostart, parte da molto distante, Valio Colby, B.B. King dei Veltri, Antonio Boccino, Assia Lewis, Bionda De Gleris, Buona Garbi, Bip MTT, Amérique, Clemar, back on top, macchina che prende velocità, back on top che ha recuperato il gruppo e si parte con la velocità da parte di B.B. King dei Veltri che cerca di contenere Antonio Boccino e Assia Lewis, si imbocca la prima curva con l'errore di Assia Lewis, B.B. King che resta davanti, Antonio Boccino che si parcheggia alle sue spalle, poi Valio Colby mentre prova a progredire all'esterno Buona Garbi che dà una scia ad Amérique Clemar che era filtrata bene dalla seconda fila con all'interno Bip MTT, ancora Bionda De Gleris, back on top. 14 per il lancio, B.B. King dei Veltri al comando, rallenta il ritmo in maniera abbastanza decisa, 29 tra questi 400 metri. E così B.B. King dei Veltri guida su Antonio Boccino, quindi Buona Garbi allo scoperto, mentre muove dall'ultima posizione back on top che risale in terza ruota girando il gruppo sulla frazione lenta della curva. I B.B. King dei Veltri al comando, back on top che si presenta a largo ha un piccolo contatto con Buona Garbi, la quale sbaglia. E back on top così si porta ai lati di B.B. King dei Veltri. Antonio Boccino allo steccato avanti a Valio Colby, poi ancora Amérique Clemar che stenta a tenere la pariglia. Bip MTT chiuso la corda da Bionda De Gleris. Intanto il chilometro di B.B. King dei Veltri se ne va in 1.13.6 perché back on top lo costringe ad accelerare. I due guadagnano terreno ad Antonio Boccino e a Balio Colby che si libera dallo steccato quando siamo a 400 metri dalla conclusione. La retta di là in 14.1.27.7002 e B.B. King dei Veltri ha respinto il primo attacco di back on top. Arriva però Balio Colby in mezzo alla pista con fare deciso. B.B. King dei Veltri in vantaggio. Balio Colby in terza allo steccato Antonio Boccino. E' chiuso B.B. P.MTT la retta d'arrivo per B.B. King dei Veltri che vi entra in vantaggio. L'attacco esterno da parte di Balio Colby che passa su B.B. King dei Veltri. Balio Colby che nel finale primeggia nettamente con Enrico Bellei al secondo. è B.B. King dei Veltri per il terzo back on top. Probabilmente si salva da uno sfortunato. B.B. P.M.T. 1.13 la media chilometrica. 28.3 di là è rimasto ovviamente sulle gambe a B.B. King dei Veltri e back on top sull'arrivo più lento. Balio Colby li trova in difficoltà. Passa nel finale in maniera nettissima. Enrico Bellei che riapprezziamo nelle immagini controllare facile vincitore per il successo del numero uno di Balio Col. La proprietà è del signor Salvatore Giannusa. Vediamo nelle immagini il successo di Balio Col. Secondo è ancora B.B. King dei Veltri avanti a back on top. Quarto. Buono per la prossima. B.B.M.T. La vittoria di Balio Colby chiude il pomeriggio dall'arcoveggio di Bologna. A tutti la più cordiale. Buonasera.